Mister, dopo tanto lavoro si comincia, arriva questa partita con Fosinone che ovviamente è difficile, è stato un mese e mezzo di lavoro intenso, sono successe tante cose, non sono mancate le polemiche, ma Nascoli non mancano mai, ora arriva il campo. Noi credo che il nostro obiettivo principale è quello di vivere giornalmente sul campo, sono arrivati 4 giocatori nuovi, quindi è normale che è un gruppo che si è amalgamato e si deve amalgamare con del tempo, fisicamente non stiamo al top, però andremo a Fosinone a giocarci la nostra partita come mentalità che dobbiamo portare dall'inizio fino alla fine del campionato, in maniera sempre battagliera e convinta delle nostre possibilità. Cosa teme della squadra Ciociara che è una squadra ambiziosa, l'abbiamo già detto quando è stato stilato il calendario? No, ma io credo che temere e rispettare una squadra sia anche giusto, però io temo i miei giocatori, temo la condizione fisica, temo come affronteremo questa partita. Stammeco, cercare di prepararla nel miglior modo possibile, è normale sapendo che comunque in questo momento non siamo al top, ma le partite ci daranno modo e tempo per capire dove possiamo arrivare e quello che possiamo fare in prospettiva. Noi dobbiamo giocare, questa è una partita che fa parte di un calendario, quindi andremo là, giocheremo la nostra partita e il nostro obiettivo sarà quello finale, soprattutto sia di crescita come gruppo, ma come società e di intenti che vanno tutti nella stessa direzione.